Un saluto dal Tg della Mobilità. Domani, in Marte di Grasso, ancora un appuntamento con il Carnevale nelle strade di Roma. Dalle 10 alle 17 sfilano i carri allegorici a Colli e Aniene, da Via Ruini a Via Sacco e Vanzetti. Sei linee bus potrebbero essere deviate nel corso della giornata a partire dai collegamenti 075 e 450. Tutti gli aggiornamenti e le modifiche nel corso della giornata si potranno seguire su muoversiaroma.it. Le altre notizie è tutto dedicato ai bambini. Il concorso lanciato da ATAC per decorare un vagone della metropolitana Adotta un treno è il titolo dell'iniziativa che si rivolge ai piccoli alunni delle elementari. C'è tempo sino al 31 marzo per iscriversi. I disegni che vinceranno il concorso decoreranno poi un treno della metropolitana per sei mesi. Il regolamento è sul sito atac.roma.it. Per il momento è tutto. Gli aggiornamenti nel prossimo Tg della Mobilità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.